Insieme per gli SDGS, 5 giornate dedicate all'alimentazione. Dal 23 al 27 settembre a Teramo si parlerà di cibo, benessere, etica e condivisione nella ricerca dell'alta cucina. Il capoluogo a Prutino è tra le quattro città italiane scelte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riflettere sugli obiettivi umanitari da raggiungere entro il 2030. L'evento porterà in città come relatori nove stelle Michelin, gli chef Heinz Beck, Massimo Bottura e Nico Romito che parteciperanno ad un convegno di apertura in Piazza Martiri moderato dal giornalista gastronomo Antonio Paolini. L'iniziativa è del Comune di Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e la Diocesi di Teramo Atri. L'Università, sono sicuro, sarà la sede culturale per discutere di problematiche fondamentali. Ricordo gli aspetti legati ai paradossi alimentari, 3 milioni di persone che non hanno accesso al cibo, oltre 2 miliardi di persone collegate con le problematiche dell'obesità, lo spreco superiore al 30%. Sono questi gli argomenti che verranno affrontati e gli approcci sostenibili per risolverli e di queste cose si discuterà il 24 dall'Università di Teramo. Riflessioni importanti, quelle che saranno fatte a Teramo nell'ambito delle giornate dedicate all'etica dell'alimentazione. L'obiettivo principale è prevedere la costruzione di una nuova umanità, più nessuno senza cibo e lotta all'obesità. Etica dell'alimentazione, come facciamo a riscoprirla? Credo che per riscoprirla bisogna imparare e scoprire perché viviamo e dove viviamo. Noi viviamo in una società contemporanea dove purtroppo tutto è coinvolto e travolto tante volte. Penso alle nostre difficoltà di poter avere anche un'attenzione, anche gli orari per la nostra alimentazione. Però credo che noi dobbiamo imparare che l'etica dell'alimentazione, o meglio l'attenzione verso l'alimentazione, è condizione importante per servire, per essere protagonista nella storia.